Guardala, buongiorno Lucia! Buongiorno da Capri, come dici tu, alle nostre spalle c'è tutto il golfo e dall'altro lato la piazzetta dove tra poco vi porteremo. Come dicevi tu, oggi San Costanzo, festa grande qui a Capri ed è stato bello essere qui anche ieri, anche in questi giorni proprio per capire come quest'isola, un'isola incantata, un'isola dalle mille fiabe, tanti personaggi del cinema, tante grandissime attrici sono venute qui e invece in questi giorni si è stretta attorno a San Costanzo, una festa che si tramanda qui da decenni, da tantissimi anni, che porta in processione proprio il busto reliquiario di San Costanzo per le stradine di Capri, quindi sarà una processione bellissima che noi vi faremo rivivere durante il corso della mattinata. Il sole si sta nascondendo dietro le montagne e questo ci dice che noi ci spostiamo, pensa Lucia, niente poco di meno che in piazzetta. Quindi ci rivediamo tra poco per portarvi all'interno di quest'isola favolosa, ma soprattutto all'interno della festa di San Costanzo. Per il momento a te.